Passiamo al prossimo concorrente direttamente da un celebre manga o anime anche visto che è stato fatto anche l'anime lui è Paolo e direttamente da Berserk interpreta Gatsu Grazie per la visione Grazie per la visione con il super mega spadone detta anche Ammazzadraghi, giusto? La nostra giuria qualche domanda sull'accessorio sulla realizzazione del costume? Ecco il nostro Alex Hockenshield Volevo chiederti il materiale che hai utilizzato per realizzare l'armatura L'armatura è su commissione Foam mentre con la spada all'esterno è Forex dentro c'è tutto il riempimento col poliretano espanso e non ci ha fatto la panina a chiuderlo praticamente Sì puoi comunque scendere che guardiamo bene Tutti che scendono e non ci ha fatto la panina Grazie.